ciao ciao certo ci ha portato al libretto per lavoro bene ti trovi bene qui il tuo capo ti tratta bene dai stefani è una tosto lui poi mi sta sempre addosso ma a me i lavori manuali mi piacciono mi liberano la testa non mi fanno pensare ma questo è bello ti piace lavoro che fai è un lavoro onesto e mi lascia il tempo per andare a predicare sì ma ti piace o no no perché ho sentito che voi testimoni non dite mai bugie quindi dimmi ti piace mi fa schifo immaginavo immaginavo ma senti un po che ne diresti se appena sta che andassimo a berci un caffè non posso dopo il lavoro l'adunanza si è l'assemblea dei testimoni di geova domani e domani è il mio turno di predicazione certo che stai bella inquadrata te predicazione adunanza scuola lavoro nel tempo per te mai sai come mio padre mi diceva sempre che ci sono le regole sono fondamentali e le regole nel nostro mondo sono come la gabbia per un subacchio che si immerge in un oceano pieno di squali e servono per proteggerci proteggervi da cosa la gente come me sono io lo squalo libero perché sei stato dentro spaccio sono stato dentro un anno e due mesi adesso che lo sai aggiungere la mia scheda no ciao ciao